La tempesta che si è alzata in conseguenza al crack, Banca Etruria ha coinvolto indubbiamente anche i dipendenti dell'Istituto di Credito Aretino, che sono finiti così nell'occhio del ciclone. Al centro delle polemiche, ma anche di alcune inchiazze della Procura di Arezzo, le modalità di vendita delle obbligazioni subordinate e la presunta alterazione dei questionari MIFID, documento che attesta il profilo di rischio del cliente. Bisogna verificare che ci siano dei MIFID alterati e quale sia il tipo di alterazione. All'esito delle verifiche si potrà prendere una posizione, però ciò che in qualche modo difetta oggi nell'espletare delle indagini a carico dei dipendenti per truffa è sia l'arricchimento patrimoniale che il dipendente avrebbe avuto dalle operazioni, sia il fatto che i consumatori fossero totalmente ignari del tipo di investimento. L'obbligazione subordinata è un'obbligazione di secondo livello rispetto alla tutela solo qualora la banca fallisca, cioè bisognerebbe immaginare che i dipendenti fossero coscienti del prossimo fallimento della banca. Se anche la stessa Banca d'Italia, che ha pensato al commissariamento, non era cosciente di questo, tanto è che l'insolvenza della banca è stata dichiarata alcune settimane fa, come si può immaginare che il dipendente, quasi fosse un analista finanziario, fosse a conoscenza dello stato di insolvenza? Secondo me è un processo che, se attentamente eseguito, dovrà portare a un'esclusione totale della responsabilità dei dipendenti. Intanto alcuni dipendenti di Banca Etruria si sono uniti alla lunga lista di richieste di costituzione come parte civile nel processo per ostacolo alla vigilanza, che vede come imputati l'ex presidente della Popolare dell'Etruria Fornasari, l'ex direttore generale Bronchi e il direttore centrale Canestri. L'udienza preliminare del processo è stata rinviata al prossimo 13 aprile. In una prima fase dobbiamo fare in modo che i dipendenti escono fuori con la dignità che va loro restituita, perché questo per me è il primo obbligo morale oltre che giuridico. Successivamente si stanno valutando tutte le azioni per un eventuale risarcimento d'anni.